Buongiorno a tutti, sono Filippo Polegato, la quarta generazione della famiglia, proprietaria della ditta ovviamente a storia. Quest'anno per noi è un anno molto importante perché festeggiamo i dieci anni di collaborazione con RCS Sport e il mondo del ciclismo in tutti questi anni ci ha dato tantissime soddisfazioni sotto il lato sicuramente di ritorno d'immagine ma anche sotto il lato commerciale. Quindi quest'anno proprio per celebrare questo connubio tra noi e RCS Sport abbiamo fatto ovviamente la classica bottiglia personalizzata del Giro d'Italia e la scelta comunque ovviamente di utilizzare il Prosecco Doc Rosé Vintage 2020 proprio per il fatto che sicuramente è il prodotto dell'anno. Poi successivamente in quest'anno proprio abbiamo anche creato un'edizione limitata che verrà stappata solo dalla Mallea Rosa e a fine giro firmerà 100 Geroma che poi dopo saranno venduti tutti quanti online tramite il nostro e-commerce. Grazie a tutti!